Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Ida Platano, la regina indiscussa di diverse edizioni di Uomini e Donne, non smette mai di sorprendere. Dopo aver tentato di conquistare i cuori di cavalieri come Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, e aver affrontato più delusioni che successi sul trono classico, Ida sembra pronta per un nuovo capitolo nel famoso dating show di Maria De Filippi. Nonostante i fallimenti, la sua fiducia nel programma che l'ha resa celebre rimane intatta, proprio come la sua amica Gemma Galgani, che tornerà nel parterre delle dame a settembre. Il futuro di Ida Platano a Uomini e Donne si preannuncia intrigante. Sebbene il programma sia terminato da poche settimane, i primi rumors sulla nuova edizione di settembre sono già in circolazione. Secondo il noto blogger Lorenzo Pugnaloni, che si è rivelato una fonte affidabile, Ida potrebbe fare il suo ritorno nel trono over. Mi auguro che Ida ritorni, ed è molto probabile, ovviamente nel parterre over. Merita di trovarsi un uomo, ha scritto l'esperto di gossip. Questo dopo che Ida ha rifiutato di riavvicinarsi a Mario Cusitore, nonostante i tentativi dell'uomo di riconquistarla post-programma. Che ne pensate? Felici di rivedere Ida nel parterre del trono over? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie 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 Grazie